Buonasera, ben trovati in questo secondo spazio di Telebari Social Night, buon venerdì ai nostri telespettatori, buonasera, ben ritrovati, che bello oggi diciamo, che bello insomma, senza Andrea, però nel terzo spazio Andrea ci caccia e farà questo insomma terzo spazio dedicato a spazio teatro. Buonasera al nostro ospite, il dottor Andrea Rubino, complimenti per questi 40 anni di storia, a questo punto lanciamo l'RVM di presentazione di questa importantissima azienda del nostro territorio. In 40 anni noi della Rubino Immobiliare ne abbiamo aperte di porte e ne abbiamo chiusi di contratti, più di 20.000 intermediazioni portate a termine. Rubino Organizzazione Immobiliare, da 40 anni, il valore dell'esperienza per chi desidera vendere o comprare casa. www.rubinocase.com 40 anni, un traguardo importante, illustre, insomma ci racconti la storia della sua azienda? Beh, la storia che quest'anno, l'anno che si è concluso, il 2023… Come Telebari, nei 50 e voi 40? 50, infatti io ricordo con grande piacere anche un po' di nostalgia, diciamo, quando è stata le prime trasmissioni telebari, era un giorno, almeno io ero il giorno, forse lei non era nata, quindi sicuramente non era nata, però diciamo, quindi ecco, c'è questa… voi 50 anni e nei 40 anni, 40 anni di lavoro… C'è un nostro articolo dedicato a voi… Sì, di lavoro, di grande attività, di grande impegno, però ecco, vorrei anche fare chiarezza su quello che è l'Agenzia Immobiliare, perché molte volte non si ha un'esatta idea di quello che fa l'Agenzia Immobiliare, perché molte volte ci si confonde o si confonde con i venditori di case, ecco, noi non siamo venditori di case, nella nostra attività rientra anche la vendita di case, come rientra un po' quello che è il marketing, come quello che può essere un po' tutte le attività di consulenza, di controllo di documenti, sia a livello urbanistico, sia a livello anche legale, di proprietà, però dopo noi la nostra attività principale è quella della mediazione, infatti anche nello spot che avete mandato in onda parliamo di intermediazione, cioè è la nostra attività principale, il clou è la mediazione, quindi questo è quello che… questi 40 anni, come diceva lo spot, ne abbiamo fatte di trattative tantissime e abbiamo concluso anche tanti contratti, però con la grande professionalità e con un continuo un miglioramento con corsi di formazione settimanali, mensili, quindi ecco, c'è stata anche da parte mia come presidente e fondatore della società e a tutto il team, tutta l'organizzazione un'attenta formazione e costante formazione. Ecco, ricordo anche per quanto riguarda conoscere meglio quella che è l'attività di agenzia immobiliare e quindi di mediazione, noi abbiamo radici lontane che provengono addirittura, diciamo, a livello dei romani, quindi dopo che c'è stata un'evoluzione, oggi per poter fare l'agente immobiliare occorre, a parte il diploma medio superiore, fare un corso preparatorio o più fare degli esami alla Camera di Commercio, cioè non è oggi semplice, anche perché dagli ultimi dati dalla Camera di Commercio oltre il 50% viene bocciato, quindi è un discorso molto serio. E' un esame che comporta, ma anche giusto che sia così, diciamo per tanti anni, dall'inizio del 90, l'ultima legge, l'ultima delle leggi che hanno un po' cambiato, io parlo sempre anche agli alunni di svolta epocale, la legge dell'89 che ha messo un po' le cose molto in chiaro rispetto anche alle vecchie precedenti leggi, è un nostro ruolo, un ruolo sociale perché noi seguiamo le famiglie in quelle che sono le attività di compraventi, di locazioni immobiliari e quindi un ruolo sociale perché stiamo a contatto prevalentemente con le famiglie e oltre economico, quindi bisogna stare molto attenti per curare tutti gli aspetti per fare una compraventi tranquilla e sicura. Sono passi importanti, dottore, nell'intervista che abbiamo fatto anche per Amabari, per il magazine, lei ha ripetuto diverse volte la parola fiducia, la fiducia la si costruisce con tanta fatica, la si consolida con altrettanta fatica, però è facile poi perderla, adesso voi avete 40 anni di storia, magari la gente si accosta a voi, si avvicina a voi con maggiore fiducia, ma all'inizio credo che non sia stato facile. Sì, innanzitutto la differenza tra 40 anni fa, cioè negli anni 80 e oggi, oggi invece ci sono tanti altri sistemi che tu forse se ne parlerà o comunque a livello di social o d'altro, quindi anche un po' con tutte le situazioni che stiamo vedendo giornalmente anche in tv sull'influencer ed altro che diciamo che sono anche un po' manipolati, quindi di creare una presenza, quindi influencer che possa influenzare un po' i consumatori e la cliente leggera. Ecco, all'epoca non c'era questo sistema e quindi c'era il passaparola, ecco questa è la cosa importante, quindi passaparola e quindi un cliente che lo dice all'altro cliente, questa è la cosa importante, quindi per noi dall'inizio proprio della nostra attività o anche dall'inizio di quello, quando io ho iniziato a fare l'attività che è i primi anni, diciamo i fini anni 70, nel 79, c'è sempre stata una grande attenzione, una grande serietà, onestà perché il cliente si attende un servizio professionale, un servizio onesto, serio, ma è quello che diciamo ognuno di noi chiede quando si serve di un professionista o di un, quindi sì, quello che ecco io mi aspetto dal cliente o dal fornitore o dal servizio professionale, una serietà, onestà, è la stessa cosa che noi facciamo da 40 anni, ecco perché la fiducia è importante. Ci sono dei rischi in questo settore per voi agenzie immobiliari? Beh, noi abbiamo molti doveri che moltamente non tutti conoscono, noi abbiamo molti doveri e molte responsabilità che sono, che rientrano un po' a quello che è la nostra, la legge professionale, quello che stabilisce il codice civile e infatti noi abbiamo anche l'obbligo di fare un'assicurazione professionale su quello che possono essere i rischi, quelle che possono essere, diciamo, le cause di danni ai clienti, quindi questo dimostra che i rischi ci sono, responsabilità, che devo dire, nel discorso di controllo delle documentazioni, visori ipotecari, questo come rischi che sono legati un po' alla trepità. È chiaro che se andiamo a vedere quello che è il nostro rischio, il nostro rischio è un rischio professionale, imprenditoriale, perché se noi non concludiamo l'operazione non abbiamo diritto a nessun tipo di compenso, di provvigioni, quindi il nostro rischio è questo, non so se ci sono, se questi rischi sono anche di altre attività, ecco, altre attività hanno altri tipi di rischi. Noi abbiamo questo rischio e quindi, ho detto, molti doveri, diritti ne sono pochi, ma è un rischio maggiore, ma è legato un po' anche alla clientela che non riconosce un'attività professionale, non riconosce un'attività che in un certo modo è astratta, perché è chiaro che noi, a parte la casa che uno compra e vende, però dopo il nostro servizio professionale che non ha, cioè è astratto, quindi pensa che sia una cosa semplice, una cosa facile e quindi che non è così, quindi è chiaro che dopo di che ci scavalca e quindi questo è il nostro rischio anche. A questo punto io, se sei d'accordo Fabio, lancierei l'RVM per parlare poi del prossimo argomento con il dottor Ruvino. Quando vuoi cambiare casa, meglio prima acquistare casa nuova o vendere quella vecchia? Dipende, se i danari non mancano possiamo cominciare dall'acquisto. L'importante è vendere casa vecchia entro i 12 mesi, in questo modo evitiamo brutte sorprese dall'agenzia delle entrate con tasse da pagare. Se invece abbiamo necessità dei danari della vecchia, allora meglio prima vendere e poi acquistare, però ha una condizione, fai inserire nell'agenzia immobiliare che ti segue questa dicitura, tra preliminare e atto pubblico devono intercorrere non meno di 6, 8 o 12 mesi di tempo. Fabio? Beh dottore, abbiamo visto che anche lei sfrutta i social, si è adattato un po' i tempi, è importante portare queste tematiche sui social? Cioè la gente oggi si informa attraverso social, siti web, lo fate anche voi immagino? Sì, beh, l'obiettivo della società, della rubinio mobiliare è quello di dare un servizio trasparente, informare, perché ritengo che il cliente debba essere, deve conoscere prima appunto di comprare casa, va informato. Ecco, noi offriamo questo servizio tramite i social, perché oggi i social sono diventati i mezzi di comunicazione determinanti, più importanti. Ecco, io così sentendo anche il vice direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, che prima voi avete intervistato, io ricordo che noi, parliamo di 30 anni fa o qualcosa in più, noi facciamo investimenti anche importanti con la Gazzetta del Mezzogiorno, cioè prima il mezzo per il cliente, per noi, ma per il cliente di trovare casa era soltanto comprare, in questo caso la domenica, la Gazzetta del Mezzogiorno, si andava a spulciare qualcosa come 4-500 annunci senza foto, senza niente, dopodiché iniziava la sua ricerca. Chiaramente era un mercato diverso, oggi ci sono i portali, i portali immobiliari, quello che è internet, tutto quel che è l'informazione online, dove uno può vedere foto, può vedere tutto, in un certo qual modo, però è partito dal 2005, quando questi portali, prendendo tutto quello che sono le tecnologie di internet, hanno potuto, però è un fenomeno che dura, che è stato da 20 anni, i discorsi portali si sono evoluti, quindi è chiaro che noi dobbiamo adeguarci a quelli che sono i tempi e quindi l'abbiamo sempre fatto, infatti così mi permetto di ricordare che nel momento in cui ho fondato la società nell'84 e avevo già il mio Macintosh che oggi sarebbe un cimelio da modernariato, però avevo già questo PC che mi serviva per l'attività. Dottor Rubino, una curiosità, quali innovazioni sperimentate e riuscite anche a provare nel vostro settore? Noi siamo sempre molto attenti, quindi usciamo un po' tutto quello che è la nuova tecnologia, quindi abbiamo parlato dei portali, ma ultimamente noi utilizziamo un macchinario che si chiama Matterport, che permette di riprendere non soltanto a video l'immobile, quindi fare un virtual tour a 360 gradi, quindi non soltanto vedere le pareti, ma anche le volte, vedere un po' tutto, quindi a 360 gradi, quindi fare una visita guidata, però è uno strumento ad alta tecnologia che permette di trasformare lo stato dei luoghi, dell'immobile, quindi con la foto, in una planimetria, con la misurazione, cioè in pratica il cliente tramite questa strumentazione può anche, vedendo il filmato, misurare le stanze, quindi prendere le misure per dopo eventualmente vedere se le misure vanno bene con i mobili che si ha, però è uno strumento che ci permette di vedere molto attentamente l'immobile con le misure ed altro, quindi anche se io sono dell'avviso che la casa, cioè non si compra la casa per i mobili, ma si compra i mobili per la casa, però diciamo che è uno strumento importante. Concordo pienamente con lei, dottor Rubino. A questo punto lanciamo un Rwm per poi commentarlo insieme con Fabio e con il dottor Rubino. Secondo Lomi, nel 2022 un immobile su quattro è rimasto invenduto per un prezzo sbagliato. Se richiedi un prezzo troppo alto rischi di non vendere, se richiedi un prezzo troppo basso rischi di svalutare l'immobile e perdere soldi. Ecco perché noi dalla Rubino immobiliare prima di mettere in vendita un immobile prepariamo sempre un documento con i prezzi di immobili simili già venduti nella tua zona, i prezzi di quelli ora in vendita e ti diciamo anche se hanno avuto nel tempo dei ribassi e da quanto tempo sono sul mercato. Sono pillole interessanti, aiutano tanto. Io volevo fare una domanda in particolare che si fanno tutti quelli che devono cambiare casa, che hanno necessità di una casa nuova. È il momento giusto per acquistare? Beh, è una domanda, è come se vado in osferie e chiedo all'oste, però senza queste battute scherzose. L'immobile è sempre il bene rifugio, è sempre stato così. Come investimento togliendo quel che può essere l'oro, i dipinti di un certo livello. Ma diciamo che il bene rifugio per eccellenza è stato sempre l'immobile. È chiaro che ci sono alti e bassi perché il mercato immobiliare è caratterizzato dalla ciclicità, quindi non possiamo dire che il mercato immobiliare è sempre in crescita o in flessione. È ciclico, un po' come le onde del mare. è ciclo. Noi veniamo da un periodo a livello di dimensioni, l'epoca fino al 2008, quindi fino a quello che è stato il crack americano con i derivati che ha creato problemi economici in tutto il mondo. Quindi quello del 2008, che diciamo agli effetti, a meno noi a Bari in Pugli l'abbiamo visti dal 2012 in poi. E quindi ecco, il mercato più basso, con meno compraventi, con muti che non si concedevano, è stato il periodo del 2012 e dove nel 2014-2015 che abbiamo avuto il picco di transazione ma anche come prezzi. Dal 2015 in poi il mercato è ritornato a crescere sia come dimensioni, come numeri scambiati che come anche un po' di prezzi. E chiaramente dopo di che abbiamo l'altra situazione del Covid 2020 che ha fermato, un po' tutto il mercato. Però lo ha cambiato. Forse anche in meglio. Beh, il mercato, diciamo che il rimanere in casa due mesi ha fatto riflettere molto in questo caso l'abitante che potrebbe essere proprietario. Per capire quali erano i punti di forza, di debolezza. Però stando due mesi in casa io penso che ognuno di noi anche quando rimane in casa lo vede quel che possesse di difetti, di criticità e pregi della propria casa. Certamente la voglia di più spazio, più aria e quindi un po' di qualità della vita. Qualità della vita è importante e quindi dal 2020 c'è stata una flessione a livello di compraventi ma solo perché, io lo ripeto, solo perché siamo stati due mesi fermi completamente. E invece dopo di che il 2021-2022, infatti le compraventi a Bari man mano sono aumentate, sono salite. Dopo c'è l'altro fenomeno del turismo che sta trainando la città di Bari e soprattutto per quelli che sono gli affitti brevi che stanno prendendo piede in maniera importante ed esponenziale. Io a questo punto, siccome il dottor Rubino è una fonte inesauribile... Potrebbe parlare per due settimane. Allora, diciamo che fra un mese, un mese e un mese, lo rinvitiamo per capire, diciamo, quali saranno i prossimi obiettivi. La ringraziamo per questa intervista e comunque complimenti per i vostri 40 anni di storia e soprattutto per esservi anche, diciamo, al passo con i tempi. Insomma, qualcuno che racconta sui social e dà delle pillole di informazione così non si vede facilmente. Per questo complimenti, qualche minuto di pubblicità e lasciamo Andrea, come sempre, da padrone nel terzo spazio. Noi andiamo, diciamo, in fere e tu ritorni tu nel terzo spazio. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, qualche minuto e ci sarà Andrea Ravalese con voi.